Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti nel primo episodio della nuova carriera allenatore su FIFA 19. Finalmente lo possiamo avere anche noi questo videogioco e siamo prontissimi ovviamente ad iniziare la nuova carriera allenatore come avevamo già annunciato col Parma. Ve l'avevamo già annunciato davvero tanti tanti mesi fa, sia in qualche video ovviamente sulla demo, sia soprattutto su Instagram, il nostro social principale, in cui appunto vi consiglio di andarci a seguire. E quindi ragazzi è tutto pronto, ti direi di subito iniziare selezionando carriera allenatore, qui subito ci dicono se vogliamo mettere l'aumento del 60% la rete di mercato globale, scusate. Innanzitutto la possibilità di vincita qui è bloccata, si potrà sbloccare poi ma noi non l'attiveremo neanche così. No ragazzi io credo sia sbloccata invece perché vedo che il lucchetto è aperto. Dice che i seguenti bonus sono stati sbloccati in base ai tuoi progressi nella carriera di FIFA 18. Quindi dovremmo solo andarlo a riscattare nel catalogo, vabbè, comunque non ci interessa perché ovviamente noi giochiamo la partita, quella è e quella è. Ok, aumento del 60% ragazzi, il Parva non ha tanti soldi, non ne ha neanche pochi, una decina di milioni dovrebbe avere, sicuramente nella rete di mercato globale per avere gli osservatori ci vuole e è necessario. Un aumento del budget ragazzi, non lo so, io direi andiamolo ad attivare ma noi per acquistare i giocatori usiamo solo il budget base, quel 60% che ci calcoliamo da noi lo usiamo solo per la primavera, lo useremo solo ed esclusivamente per i giovani su cui vogliamo puntare molto. Non vogliamo prendere i soliti giovani esistenti ma abbiamo visto anche nello scorso anno che avere una propria cantera come il Barcellona, avere una propria primavera... Può farti uscire gente come Branco. Chi c'era su VIA18 sa ad esempio Alessandro Branco che era un giovane brasiliano che era alla fine 58 e diventato poi oltre 60 ma ragazzi giocava benissimo, era un perno incredibile al centrocampo. Quindi direi di andare a mettere questo aumento del 60%, quindi ovviamente fare tutti i download. Ok, le rose sono state scaricate al 100%, qui ci viene proposto il Napoli ma noi dobbiamo andare appunto nella nostra nuova squadra, il Parma. E poi ha 3 stelle e mezzo, non è pochissimo per una squadra... Non è poco, tra l'altro vorrei vedere ad esempio il Benevento come se la passa, hanno le maglie ufficiali, questo mi fa molto piacere. Ragazzi, ha più soldi il Benevento con 9 milioni e 3 ad esempio di un Parma che dovrebbe, se ho visto bene, avere 8 milioni e 6. Valore totale del club 26 milioni, città Parma, le magliette le conosciamo bene, sono davvero molto molto belle. Allora, successo in patria, richiesta poca roba, successo continentale non è praticamente richiesto. Farma del brand normale, effettivamente il Parma in contesto europeo ha un ottimo nome, ha vinto molto in contesto europeo, soprattutto diciamo fine 900 con l'epoca di Buffon, Turam, Zola, Chiesa, Cannavaro, li conosciamo tutti. Non ha mai fatto male il Parma in Europa, a dire il vero, anzi è riuscito anche a ottenere delle coppe UEFA. Il Parma ha vinto due Europa League, una Supercoppa europea, una squadra con una grandissima tradizione che ha avuto sulla sua panchina animatori come Enrico Sacchi, come Ancelotti, quindi una squadra davvero che sa come muoversi in Europa, ma che poi appunto col fallimento Parmalat è scesa dalla Serie D e risalita ed è stata la prima squadra in assoluto in Italia a fare un unico salto dalla Serie D alla Serie A senza mai stopparsi un anno. Il quadruplo salto. Il quadruplo salto, la Serie D, Serie C, Serie B e finalmente in Serie A. Leggiamoci velocemente appunto la descrizione, ovvero il club fu fondato nel 1913 come Parma Football Club, ha aggiunto tre coppe nazionali alla propria bacheca, infatti sì, ha tre Coppe Italia vinte. Dica male, eh. Ha anche vinto delle Supercoppe italiane. Il Parma toccò il suo periodo di massimo splendore negli anni 90, l'abbiamo già detto, quando lottava regolarmente per il titolo. Ci fu un anno in cui lottò fino all'ultimo secondo, fino alle ultime partite con la Juventus, sia per lo Scudetto sia per l'Europa League se non sbaglio, mi sembra anche per la Coppa Italia. Il decennio si chiuse alla grande per la formazione giallo-blu con il triomfo sul Marsiglia nella finale di UEFA. Europa League giocata a Mosca era veramente fine del secolo del Novecento, si stava per iniziare appunto il nuovo millennio, il nuovo appunto gli anni 2000. Va bene ragazzi, direi che abbiamo un po' contestualizzato il tutto. Ora è il momento di scegliere il nostro allenatore che si può scegliere con camicia-cravatta, lì c'è la possibilità di fare switch, infatti sì, possiamo cambiare il nostro abito. Allora, l'anno scorso avevamo una figura appunto anziana, era una specie di Ferguson che ovviamente avevamo chiamato Manita. Ora vedremo che nome dare, ma magari lo scegliamo un po' più giovane, scegliamo al solito? Sì. Siamo questo? Sì. Vabbè, cinesi, direi di non prenderlo. Non so, se no prendiamo quello dell'anno scorso e continuiamo. Sì, quello dell'anno scorso, dai. Prendiamo quello dell'anno scorso, lo mettiamo... Camicia-cravatta. Anzi, ma completo, completo. Completo ci sta, andiamo a scegliere un nome un po' originale e ovviamente nazionale-tea italiana. Ok ragazzi, abbiamo controllato come avevamo chiamato il nostro allenatore nella carriera di Cifo 18 col Benevento. Si chiamava La Manita. Ragazzi, noi riconfermiamo questo nome anche perché, diciamo, inventare un allenatore secondare, magari reale, ci sembra un po' stupido. Potremmo ad esempio fare finta di un ritorno di Arrigo Sacchi sulla panchina, ma sinceramente non ci teniamo tanto. E quindi lo chiamiamo un'altra volta La Manita, che è un po' l'emblema del nostro canale, anche negli spacchettamenti. La Manita, abbiamo scelto la figura anziana, italiano, andiamo avanti. Qui hanno cambiato un po' come sono disposte le impostazioni. Allora, sappiamo che in questo nuovo FIFA c'è la difficoltà Ultimate. Descritta esiste solo FIFA, non so cosa voglia dire. In ogni caso, ragazzi... Nella tua vita hai solo FIFA, niente più vita sociale, niente, solo FIFA ragazzi. Esatto. Chi gioca tutto il giorno. Noi l'anno scorso abbiamo sempre fatto un cambio tra campione e esperto. C'erano i periodi buoni a campione, poi sconfitte su sconfitte eravamo costretti a passare esperto. Comunque, gli ultimi due stagioni li abbiamo fatte tutte praticamente a campione, soprattutto la quarta stagione con la Juve, ma anche la terza con il Benevento, tutta a campione. I primi due anni invece abbiamo avuto un po' di difficoltà. Questo FIFA è parecchio cambiato, quindi noi partiamo con campione, ma ragazzi sarà impossibile, ripassiamo esperto. Mettetevi nei nostri panni. Noi sappiamo che voi giocate tutti a campione, a leggenda, forse anche ad Ultimate, ma siete da soli a giocare. In due bisogna trovare un'intesa che davvero è complicata da impostare. Quindi ragazzi, direi di partire con campione, appunto se sei un giocatore esperto di FIFA usa campione, se sei un giocatore esperto e vuoi sfilare sono i migliori, metti leggenda. Noi mettiamo campione. Durata tempo metto 4 minuti, come l'anno scorso, quindi non cambiamo la valuta, mettiamo l'euro. Lo stadio Arena d'Oro, ovviamente cambieremo il nome. Le rose aggiornate, iniziali, no, mettiamo quelle aggiornate, finestra di mercato ovviamente attiva. Champions League... Non la faremo nel primo anno, ma... Si possono tra l'altro, vedete, modificare i gruppi, ma noi sinceramente non interessano. Sono i gruppi più fedeli alla realtà, infatti noto ad esempio che la Juve ha il suo reale con Young Boys, United e Valencia, il Navoli ha Liverpool, PSG e Orebro. Che dovrebbe essere la stella rossa? No, non c'è la stella rossa, infatti è una squadra svedese, ad esempio, vedete, l'Inter ha il suo gruppo normale, così come la Roma. Vabbè, non abbiamo bisogno di cambiare comunque queste impostazioni, quindi andiamo avanti. Qui vedete anche tutte le altre italiane che sono già messe. Ragazzi, solo per lo stadio dobbiamo fare una modifica. Allora, modifica stadio. Dobbiamo cercare il più simile, ovviamente all'Egno Tardini, ovviamente rinormeremo questo stadio, stadio Egno Tardini, ma vogliamo vedere quello più simile. Quindi facciamo un po' di ricerche. Ragazzi, abbiamo fatto un po' di ricerche, soprattutto vedendo foto dello stadio reale Legno Tardini, e abbiamo visto che quella che ci avrebbe assegnato FIFA, automaticamente era l'Arena d'Oro, che ci assomiglia, sì è vero, perché c'è quella tettoia, vedete, in alto a destra. Il problema è che ha la pista, la pista appunto d'Atletica, pista che lo stadio reale del Parma non ha, e quindi abbiamo deciso di optare per il Court Lane. C'era anche il Crown Lane come idea, però, diciamo, ci ispira molto questo Court Lane. I posti sono quasi 20.000, l'Egno Tardini prima di un crollo, che ho letto qualche giorno fa, c'è stato qualche annetto fa, erano circa 25.000, 26.000, ora sono poco più di 20.000, quindi siamo in riga con, diciamo, con la realtà. Andiamo a rinominarlo, appunto, Egno Tardini. Perfetto, stadio Egno Tardini, spero lo abbia salvato, applica ed esci. Perfetto, stadio Egno Tardini, lo abbiamo, andiamo avanti, ora dovrebbe scaricare nuovamente le rose. Non è vero, siamo prontissimi, ora ci vuole solo un breve caricamento, qui comunque la squadra Parma riparte da manita ogni anno, ragazzi, ci vuole questo nome. È tradizione ormai, in ogni caso, ora vogliamo parlare un po' di questa carriera, speriamo che come l'anno scorso appunto possa essere supportata da tanti, ovviamente l'anno scorso rispetto al pubblico che ci segue per le aperture, siete di meno, ne siamo consapevoli, però con il benevento, nonostante tutto, nonostante le visual, i like, non fossero questo numero così esorbitante, noi ci siamo divertiti tanto, c'erano comunque dei commenti positivi e noi ci divertivamo. Speriamo di vedere lo stesso appunto quest'anno. Andiamo appunto a fare il primo salvataggio, lo chiameremo ovviamente Parma. E beh, ragazzi, siamo prontissimi. È arrivato finalmente quel momento dell'anno, l'anno scorso è la prima ottobre, e ci portiamo avanti quella carriera fino a luglio, con quattro stagioni. Qui invece iniziamo che giorno è oggi? 28 settembre. Ragazzi, come al solito, invito torneo precampionato. Noi lo facciamo e al contrario di tutti gli altri youtuber, noi il torneo precampionato lo giochiamo, se no che senso avrebbe? Noi abbiamo una rosa a disposizione, prima di fare degli acquisti, dobbiamo vedere se tot giocatore va, se questo modulo funziona. Non simulare tutto, compriamo i giocatori a casa, no, bisogna studiare alla squadra, se no, qual è il senso della carriera? Giocate al team e team, se siete quel tipo di persone. Ok, il budget più o meno sono 3, 4 e 5 milioni. Io direi che sono tutti e 3 alla stessa portata, vedo comunque in quello lì, diciamo, da 5 milioni, scusate. C'è l'Albion che non è facile. Il West Bromwich, lo Stoke, l'Under, l'Extingank, però che qui comunque vediamo il Norwich, il Celtic. Questo è il Betis, se non sbaglio. Non ricordo, mi sembra che uno era nel Raio Vallecano, qui comunque stanno squadre, sono tutte squadre mediocre, come noi. Quindi direi di andare a scegliere quello che ci dà 5 milioni. Magari possiamo incontrare appunto qualche squadra già più ferrata e pronta che può darci più insidie. Ed eccoci, finalmente, vedete anche qui la grafica... Nella hub. La grafica Champions League. Siamo appunto nella sessione principale. In questo episodio non giocheremo partite, non faremo mercato. Andiamo a vedere la squadra, andiamo a vedere la rosa, scegliamo il modulo, scegliamo le nostre tattiche e ovviamente andiamo a mettere sul mercato eventuali giocatori che vogliamo vendere. Vabbè, qui sono tutti i sorteggi, ma questo personalmente non ci interessa, noi c'è Plating, forse ci arriveremo tra qualche anno. Sì, ovviamente c'è la simulazione dei sorteggi, una cosa appunto niente di che, cioè, è un'animazione velocissima. Personalmente Fifi potrebbe migliorare tantissimo la carriera, ma questo lo diciamo ogni anno, ogni anno non migliora quasi niente, anzi qualche volta si torna pure indietro. La rosa è questa qui, è un 4-3-3 fissato sul contenimento. Noi abbiamo una certezza, non vogliamo usare i moduli dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo usato un 4-4-2, che era quello lì con i due centrocampisti centrali e le due ali, tra virgolette, che giocavano sempre Ciciretti e l'Axalt come ala, e poi l'ultimo anno del Veneto siamo passati a un 4-2-3-1, con Babacara unica punta, perché inizialmente avevamo spesso Babacara affiancato da Adrian, o da Cutrone, o da Pinamonti. Qui invece ci propongono un 4-3-3 di contenimento, cosa che personalmente a noi non dispiacerebbe. Sinceramente dobbiamo decidere il modulo anche in base ai giocatori che abbiamo, però partire con una difesa a 3 e una difesa a 5, secondo me dà un'impronta troppo difensiva a questa squadra. Dobbiamo cercare di assumere comunque un atteggiamento propositivo. Magari più offensivo. Più offensivo, non sempre tutti dietro. Vogliamo proporre un calcio comunque bello, perché comunque abbiamo degli spettatori, un pubblico abituato a grandi campioni. Bene, questo è il 4-3 di base, ovviamente andiamo a modificare ogni piano di gioco con la modifica di modulo, quando ad esempio passeremo all'ultraoffensivo, al posto di avere un 4-3-3 di contenimento, avevamo un 4-3-3 offensivo con un C-O-C che vado ad attaccare. Ora direi di studiarci un po' tutti i giocatori in rosa e vi facciamo vedere una ipotetica formazione titolare. Ok ragazzi, ecco un'ipotetica formazione titolare, o comunque come dovremmo schierarci. Il 4-3-3 difensivo per ora ci soddisfa, non vogliamo stravolgere la rosa, quindi va bene questo modulo per ora. In porta abbiamo Sepe, portiere in prestito dal Napoli, quindi lui sarà il titolare perché frattali lo vedo un po' più scarsetto, anche un po' più avanti con l'età, quindi sarà una degna riserva, ma appunto sul ruolo del portiere vogliamo cercare, grazie appunto ai nostri osservatori della primavera, su cui appunto investiremo molto grazie al 60% di budget, vogliamo cercare un portiere che possa quest'anno fare un po' di rodaggio e l'anno prossimo partire da titolare, perché appunto Sepe ci lascerà. Non vogliamo per forza prendere i soliti giovani portieri svilar, che vedete in tutte le carriere, vogliamo prendere qualcuno di diverso. Tessino destro abbiamo Gazzola, ma bisogna andare a controllare se in prestito o no. Come riserva di Gazzola abbiamo Jacoponi, che qui ce l'ho dato in mensore centrale, ma teoricamente può fare il tessino destro, e anche una velocità niente niente male, 86 di velocità scatto e 78 di accelerazione. Quindi per la difesa, almeno per il tessino destro scusate, siamo coperti, non c'è grande urgenza, è vero che Gazzola non ha tutta questa velocità, si gira intorno al 68-75, però può soddisfarci, almeno per il momento. Come difensori centrali abbiamo Bruno Alves, un giocatore che ha vinto l'Europeo 2016 col Portogallo, un giocatore di grandissima esperienza, ma molto molto lento, come potete ben vedere. Corre e cammina. Ha delle ottime statistiche, per quanto riguarda la battuta di rigori, di precisione e punizione, un giocatore comunque con grandissima esperienza. Di qualità. Ma sappiamo che a fine di questa stagione, quindi per il prossimo anno, non ci sarà più, si ritirerà, quindi dovremo tutelarci anche nel ruolo di difensore centrale. L'offiancherà Gagliolo, che ci viene dato come terzino sinistro, ma in realtà può fare anche il ruolo di difensore centrale, non mi convince tantissimo, penso che forse più come terzino sinistro, con il suo ruolo naturale potrebbe rendere meglio. Poi l'ultimo giocatore è Gobbi, Gobbi simbolo comunque giocatore storico del Parma, che però davvero come terzino sinistro con 60 di velocità scatto e 47 accelerazioni non si può vedere. Cioè ha degli ottimi piedi, ha dei buoni statistiche di passaggi, di tiri, però davvero far fare il titolare terzino sinistro che deve spingere, deve correre a un giocatore con così poca corsa di 37 anni mi preoccupa. Quindi è probabile uno switch di Gagliolo sulla sinistra e quindi un'eventuale ricerca di difensori centrali. Perché come riserva abbiamo Bastoni, giovane fortissimo, ma è del proprietà dell'Inter, quindi in quest'anno potremo puntarci molto su, ma poi appunto ci lascerà. Tessino sinistro di Marco, anche lui vorrei puntarci tanto, mi ha affascinato molto il gol che ha segnato all'Inter, ma è inutile puntare su di lui se è in prestito. Sono tutti in prestito ragazzi. Come l'anno scorso il Benevento, te lo ricordi? Sì, è un'identica cosa. Poi abbiamo come altri, come Esuberi, Pinto, che ha 26 anni, ma davvero non mi dice nulla. Un po' di velocità, ma niente di che. E si è ralta, si è ralta però a 21 anni, può fare anche il difensore centrale, magari lui può essere una pedina da far crescere. Abbiamo visto appunto Giacoponi tra le riserve e dunque diciamo che la situazione di difesa non è critica, ma va messo qualche tassello importante. Passiamo al centrocampo, centrocampo che è un reparto ben fornito, un reparto in cui non ci possiamo lamentare. Rigoli, Cdc lo può fare. È un bel giocatore. Nonostante abbia 33 anni, è un grande e bel giocatore. Non ha una distrazione velocità anche lui, ma è molto aggressivo. Vedete, ha tanta freddezza, la resistenza non è male, ci serve uno con tanta resistenza. È un giocatore vissuto ragazzi. Ci serve uno con tanta resistenza davanti alla difesa, un controllo palla, ha ottime statistiche per la potenza tiro, per passaggi corti e passaggi lunghi. È un giocatore che può anche andare in box to box a fare il tiro da fuori area. Tre stelle schiene e tre stelle viene debole. È molto alto, quindi davanti alla difesa lui è perfetto. Torniamo solo a controllare se è imprestito o no. Jacopo Dezzi, ex Napoli, lui mi affascina ancora di più, perché ancora 26 anni, ha un minimo di margine di crescita e personalmente anche lui con statistiche niente niente male, 93 di resistenza. Potremmo farlo giocare più partite. Lui davvero sarà quasi titolare inamovibile, ottime statistiche anche per la velocità. Certo, non ha lo stesso piedino che ha Rigoni, però comunque è un gran bel giocatore. Lui ci dice appunto che anche lui ha tre stelle skill, tre stelle piede debole, cc naturale e lo facciamo giocare appunto come mezza alla destra, ma lo può fare benissimo questo ruolo. L'altro titolare sarà Grassi, ma personalmente vogliamo cercare un'alternativa. Grassi è fortissimo, a nostro avviso, ma in prestito dal Napoli. Quindi anche lui lo possiamo valorizzare, lo possiamo utilizzare, ma non possiamo contare solo e soltanto su di lui, perché andrà via alla fine della stagione. Abbiamo allora Stulaz, che sarà tra titolare e riserva, ovvero un giocatore niente niente male, ancora abbastanza giovane, che potrebbe fare il CDC alternato con Rigoni, lui è di proprietà, e quindi vorremmo puntare parecchio su di lui. Abbiamo poi Scozzarella, giocatore trentenne, che ha anche ottime statistiche per i passaggi lunghi, per le punizioni precise, vedete, ottime statistiche per l'accelerazione, e quanto ha di velocità, 89-85, mamma mia, questo corre parecchio, e quindi sarà una pedina importante per, diciamo, nel nostro arsenale. Andiamo poi Gianni Munari, veramente vecchio, vecchio, vecchio. Però è il tiro da lontano, che è valido. Noi vedremo un po' che fare, ma giocatori così, meglio cederli. Velocità scatto è pochissima. 30 di velocità scatto, ragazzi, il centro campo servono ragazzi che corrono, che hanno voglia di recuperare palla. Andiamo poi Antonino Barillà, anche lui parecchio veloce, non dagli ottimi piedi, ma corre parecchio. Può fare il CDC, lui possiamo pensare a un ruolo di eventuale riserva, in ogni caso ragazzi pensate che noi giochiamo la Serie A, e forse la Coppa Italia se riusciamo ad andare avanti. Quindi bastano 15-16 giocatori, non servono ad avere due squadre di titolari, come ci serviva il Benevento quando giocavamo l'Europa League. L'Europa League ragazzi, sono il più forte, ovvero l'attacco. Siamo molto completi, è vero che alcuni tasselli sono in prestito, e ciò ci dispiace. Partiamo dall'ala sinistra, Gervigno, di nostra proprietà, ancora con tanto da dare, 31 anni, non è ancora in una fase di calo, ha dimostrato anche nella realtà di essere in una grandissima forma, forma smagliante per lui, e vedete che può fare anche l'ala destra, volendo anche la punta centrale. L'attacca, fa tutto. Quindi può essere un tassello importantissimo, corre come un pazzo, corre come un pazzo, ha un'ottima finalizzazione 72, ha un ottimo dribbling, lui sarà titolare inamovibile. Punta centrale, Roberto Inglese, in prestito dal Napoli, lui, siamo davvero combattuti su che fare, perché è un ottimo giocatore, ma anche lui, valorizzarlo e valorizzarlo, quando poi ci abbandonerà la prossima stagione, non sappiamo se ne vale la pena. Alla destra, Biabianidi, nostra proprietà anche lui, anche lui con... Una proprietà imbarazzante. Cioè, in rete imbarazzante, 95 di accelerazione, 93 velocità scatto, sarà un tassello importantissimo anche lui, che può giocare anche sulla sinistra, volendo, può giocare anche un po' più basso, anche lui 30 anni, quindi ancora, ancora tanti anni nelle sue gambe. Mentre per quanto riguarda le riserve, abbiamo Ciciretti, lo storico Cicibomber, quest'anno però non potrà avere un ruolo centrale come l'anno scorso, che appunto non l'abbiamo mai ceduto, è restato sempre titolare, quasi capitano morale. Offerte milionari e rifiutate. Offerte di milioni e milioni per lui rifiutate, ma sarà una riserva giusta, certo, se Biabianidi vedremo che non se la caverà, giocherà lui, però quello lui va via, quindi inutile farlo diventare titolare inamovibile. Ceravolo, Ceravolo è una buona riserva, è uno di quegli attaccanti appunto molto statici, 1,80 m, sì, ha una buona statistica di velocità, però comunque vedete, tanta elevazione, tanta freddezza, sicuramente inglese più forte, però vedere un Ceravolo titolare, sinceramente non mi ispira tantissimo. Abbiamo poi Di Gaudio, riserva di Gervigno, uno con tutta questa velocità, comunque corrono tutti questa squadra, uno con tutta questa velocità, metterlo in panchina, un po' mi dispiace, anche perché ha un ottimo overall, però c'è Gervigno, ha 4 stelle pedevole, 4 stelle skill, è un peccato, quindi può darsi anche che, turnover faremo, potremmo, forse anche cederlo, dipende anche da quanto ci offriranno, in ogni caso, anche lui è un funambolo, come ci dice anche FIFA, davvero molto molto in gamba. Abbiamo poi sprocati, alla sinistra di 24 anni, niente male anche lui, però appunto, se ci teniamo Di Gaudio, dovrebbe vendere qualcuno, c'è anche Baraglie sullo stesso ruolo. Dovremmo cedere uno dei due, sulla destra, oltre a Ciciretti, abbiamo anche Siligardi, lui che può fare, se non sbaglio, anche la punta, non è vero, non l'ho inventato, può giocare a sinistra e destra, anche lui ha delle buone statistiche, come ad esempio l'equilibrio, come ad esempio un ottimo dribbling, si può puntare anche su di lui, vedremo se Ciciretti ci convincerà, soprattutto se via Bianniche, di nostra proprietà ci convincerà, io poi Baraglie, 26 anni, può fare la punta, può fare il C.O.C., ma a parte correre come tutti, in questa squadra, non mi sembra abbia grandi qualità. L'ultimo che resta da analizzare, è Dacruz, punta 21enne, lui deve andare in prestito, a far fare le ossa. Ora, prima di chiudere il primo episodio, in cui abbiamo analizzato tutta la squadra, direi di andare appunto, a vedere chi abbiamo in prestito, e chi dobbiamo invece, cedere, diciamo, dobbiamo andare ad analizzare bene la rosa, di De Sepe, è in prestito alla squadra Parma, dal Napoli, ce lo teniamo per il primo anno, è utile, poi non vedremo di rimpiazzarlo, e Frattali farà la riserva, vedremo se arriverà un giovane, dalla cantera nostra, dalla nostra primavera, procederemo. Gazzola, contratti di scadenza fra 12 mesi, ma di nostra proprietà, e quindi il titolare lo può fare, senza alcun problema, si ralta in prestito alla squadra Parma, quindi non è di nostra proprietà, ce lo teniamo, può essere appunto una buona riserva, se si sentite di overoni, non sarà sicuramente il titolare, Bruno Alvesh, che non calerà drasticamente ai 60, e lo vendiamo, in pochi mesi, ma non possiamo neanche vendere, ma giusto perché si vuole ritirare, quindi non possiamo farci nulla, Bastoni, in prestito anche lui, giovane, pazzesco, ma è in prestito ragazzi, non possiamo puntarci, sarà anche lui in riserva, non lo ricediamo, non lo riportiamo all'Inter, ma di certo non possiamo puntarci, Jacoponi è nostro, farà la riserva, abbiamo detto, o di Gazzola, o di Bruno Alvesh, in base a dove avremo necessità, Gagliolo è nostro, mi sa che sarà lui il terzino sinistro titolare, perché Gobbi, anche lui si ritira, e davvero non ne ha più, Di Marco è in prestito, e non lo riportiamo all'Inter, ma di certo non ci punteremo tantissimo, pinto da cedere, infatti il primo che vado a mettere sulla lista dei trasferimenti, per il resto ragazzi, io vorrei provare a mettere sulla lista dei trasferimenti frattali, se riusciamo a trovare un giovane, e come si chiama, Jacoponi, perché comunque è abbastanza vecchio, se riusciamo a trovare un giovane interessante, non guasterebbe, Passiamo al centrocampo, Stulaz è nostro, non lo possiamo neanche cedere, perché appunto appena è arrivato, ce lo teniamo, è comodissimo, Rigoni è nostro, al contatto di scadenza, ma di nostra proprietà, è ancora tanto tanto da dare a questa Serie A, ce lo teniamo, Dezzi è nostro, non lo voglio cedere, perché secondo me è importantissimo nella nostra squadra, grazie in prestito, quindi ce lo teniamo, Scavone è in prestito alla squadra Lecce, ma un 65 di over o 31 anni, lo lasciamo a Lecce, non credo ci serva, non ci sarà emergenza, Munari da mettere sul mercato, mi dispiace tanto per un giocatore storico della Serie A, ma 35 anni non si può vedere, Scozzarella corre come un pazzo, e quindi per ora ce lo teniamo, Barillaio provo a metterlo sulla lista dei trasferimenti, perché è un po' più vecchio di Scozzarella, e anche meno di over all, mentre per Deiola, che è in prestito alla nostra squadra, non possiamo far nulla, ce lo teniamo, Di Gaudio, anche lui, io provo a metterlo sul mercato, non perché lo voglia cedere, ma se arriva un'offerta valida, se arriva un'offerta valida vale la pena pensarci, abbiamo un galano in 72, che si trova la squadra a Foggia, in prestito, questo bisogna vedere se riprenderlo, oppure se lasciarlo lì, 27 anni in 72, nel pieno della sua maturità calcistica, quindi ci si può fare un pensierino, Siligardi, Siligardi ragazzi, avendo anche Ciciletti, io proverei a metterlo sulla lista dei trasferimenti, sempre per vedere le offerte che arrivano, Ciciletti è in prestito, Biabiani resta con noi, da Cruz si può mettere appunto sulla lista, lo mettiamo in prestiti, perché lui è giovane, può crescere, Ceravolo, non lo possiamo cedere, ce lo dobbiamo tenere in inglese, è in prestito, l'abbiamo già detto, Baraglie, 26 anni ragazzi, provo a metterlo sulla lista dei trasferimenti, ma può essere un buon giocatore per il turnover, è Sprocati in prestito, quindi Sprocati in prestito, mi sa che dovremo tenerci per forza, il carissimo Di Gaudio, perché poi l'anno prossimo ci lascia Sprocati, e Gervinio titolarissimo, non ci lascerà, grande, grande, ragazzi ok, io direi che questo video è durato già abbastanza, abbiamo parlato tantissimo, non vogliamo annoiarvi ancora di più, nel prossimo episodio inizieremo con la prima gestione di mercato di primavera, giocheremo anche le prime due partite, magari vediamo un po' come organizzarci, e beh che dire, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciare un bel like, di iscrivervi se ancora lo avete fatto, e beh noi ci vediamo nel prossimo video, bella!